3, 2, 1, 0, and lift off of the SpaceX Falcon 9 rocket with Dragon. Quinta missione in orbita per la capsula Dragon dell'azienda spaziale SpaceX per conto della NASA. Il modulo è stato lanciato alle 10.47 ore italiana con un Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral in Florida. Dragon porterà i rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, dove l'arrivo è previsto alle 6 di mattina di lunedì 12 gennaio, con qualche giorno di ritardo dopo i problemi tecnici sofferti il 6 gennaio scorso. Gli astronauti a bordo della stazione, tra cui anche l'italiana Samantha Cristoforetti, si stanno preparando al suo arrivo e per la manovra di aggancio dalla cupola tramite braccio robotico.